Scusate, prendi il corpo e giro per fare l'alto Dovete seguire con il corpo il movimento tra me Il movimento che ho iniziato In realtà nel calcio c'è lo stesso punto perché la pressione vincola il suo piede e quindi con il calcio che voi andate a tirare qui si crea l'effetto di ultimo Fatto questo, lui da quella posizione tira un corpo di rotation che voi potete parare Qui siamo? Adesso faremo alcune piccole soluzioni Un, due Di nuovo Un Scendo Con la mano si La stessa mano Iniziamo con questo che lo facciamo a pezzo di Questa è un altro giusto di supportare Questa è una presa tipica, quella che noi conosciamo dalla leggeana Nelson Full Nelson È una presa tipica, tradizionale, di due popoli Di Alessandro Imaio, il macedole, a te vero che si chiama Presa Macedo Ed è la presa principale del popolo di Nankabao Se voi vedete la donna di Colanet che la guida Ci è scritto che il popolo di Nankabao fa risalire le sue origini ad Alessandro Imaio Questa è una presa 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 eh, vissi di vita qui 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 questo guarda e prendeci solo dentro con le modifiche prima seconda ok terza completa l'importante è imparare bene queste due vengo giù in questa posizione stando bassi mettendolo bene in lera dopodiché passate questa disarga cambio del modo e si ricomincia si ricomincia si ricomincia prima cosa per non cadere per non subire che farò questo che è abbastanza spontaneo cerco di prendere appena qua sento questo se non mi è levato mi spattola le coste ora mi ammontano ora quando sono arrivato qui vado a cercare il foglio qui ecco questo è il modo ora ti indico andate a capire quindi facciamo uno due due arretto tu sei avanti non è sbagliato devi seguire la forza più vai e qua no ma puoi tagliati da quello così allora uno uno due tre e rifinito giusto disarga attacco io di busta appoggio attacco giro e vado vai uno due tre disarga attacca lui uno due tre dall'altra parte uno due tre disarga e vieni ok ok fatta bene quindi il finale è rivolente, per il genere.